Noi avevamo lanciato questa iniziativa ben prima di tutto il dibattito che è scaturito rispetto alla festa di partito di Fratelli d'Italia. Non immagino mai il nostro impegno politico come un impegno contro, parte per essere un impegno per costruire un'Europa migliore. Questa iniziativa ha un per davanti, non un contro. È un'iniziativa per un'Europa diversa e migliore dal punto di vista sociale, del lavoro, della prossimità, delle relazioni internazionali, del contrasto ai paradisi fiscali. Insomma questo è il senso, è chiaro che c'è una concomitanza che immagino farà anche vedere che siamo agli antipodi come visione dell'Europa e del ruolo dell'Italia in Europa. Questo sicuramente emergerà anche perché come ho detto ieri abbiamo appreso della presenza del leader di Vox come ospite all'Atreio e stiamo ancora aspettando di capire cosa pensi Giorgia Melori del fatto che Abascale è un emersore che ha detto che Pedro Sanchez dovrebbe essere appreso per i piedi. Ci chiediamo se lo dirà anche da quel palco e in ogni caso visto che l'ha ospitato a Palazzo Chigi in Pompamagna sarebbe interessante che prendesse le distanze da queste gravi affermazioni.